Mappe, cronoprogrammi e soldi investiti concentrati in un nuovo portale. E' Pesero che cambia.it, la nuova operazione trasparenza presentata oggi dall'amministrazione Ricci per spiegare l'evolversi delle tante opere pubbliche in città fra cantieri completati, cantieri in corso e cantieri finanziati. Uno strumento che dall'online si tradurrà presto all'offline con camminate e biciclettate organizzate dal Comune attraverso percorsi esplicativi fra opere pubbliche concluse o pianificate. Si parla delle opere comprese dall'inizio del primo mandato di Ricci ad oggi e si parla soprattutto delle risorse. Quel salvadanaio che custodisce oggi un mastodontico miliardo e sei recentemente gonfiato dal miliardo e due da prendersi con lo stanziamento per l'arretramento della ferrovia. In parte le cose realizzate, in parte le cose che stiamo realizzando e ovviamente in parte cose che lasciamo alle nuove generazioni. Sarà un po' anche la mia eredità quando finirò il mandato a giugno del 24, però è uno strumento di partecipazione e di comunicazione perché stiamo portando a Pesaro tantissimi finanziamenti, lo abbiamo fatto anche negli scorsi anni, però è difficile spiegare ai pesaresi cosa sta davvero accadendo e quindi abbiamo deciso di creare questo sito, Pesaro che cambia, semplicissimo, che aggiorna soltanto i progetti finanziati, o con risorse nostre o con risorse regionali, europee, nazionali, PNRR, cioè le risorse che in qualche modo sono in cassaforte per Pesaro. Questo è molto importante perché dà l'idea del cambiamento che è in atto ed ha anche l'idea di quello che ci sarà per le prossime generazioni. Se penso all'investimento più grande, c'è un miliardo e due, l'arretramento della ferrovia, ovviamente non riguarderà i prossimi mesi, riguarderà i prossimi anni, però è una cosa che può cambiare le città per le nuove generazioni. Però ci saranno tantissimi anche altri progetti che complessivamente cubano centinaia di milioni che invece sono in corso o verranno realizzati nei prossimi due anni, nei prossimi tre anni al massimo. Quindi è uno strumento importante che vogliamo iniziare a divulgare muovendoci, perché in questo periodo si sta molto bene all'aria aperta, sapete quanto puntiamo sullo sport e il benessere. E quindi lunedì sera, prima camminata per illustrare le cose in centro, sarà una camminata tranquillissima di tre chilometri che possono fare tutti, e che faremo con lo smartphone e che in qualche modo sarà quasi una guida, una guida verso i lavori. E poi invece domenica prossima faremo una pedalata e quello ci consentirà anche di spiegare bene cosa succede dietro via dell'acquedotto, cosa succede all'attuale stazione, il tema dell'arretramento, il tema delle opere di sostautostrada, all'ospedale. Quindi faremo un giro un po' più lungo, ma comunque anche questo è accessibile a tutti. Quindi partecipazione, benessere, comunicazione e tanta trasparenza, perché avere uno strumento del genere ovviamente è anche un po' rischioso, perché tutti i cittadini potranno verificare i cantieri a che punto sono, quanti sono bloccati, come vanno i lavori, qual è l'iter, e quindi anche una grande scommessa di trasparenza e partecipazione.